Noi abbiamo rapinato, fatto estorsione, trafficato droga, ma questo non vuol dire che siamo dei criminali! E la nostra comunità questa mattina si è svegliata con la notizia di un traffico di sostanze stupefacenti. Io ritengo che il caso è vostro. Ma vostro di chi? Faremo grandi cose insieme, maresciano! Sono stato tre anni in carcere, tre anni che non tocco una femmina e tra tutte io ho scelto te e non ti sei cercando manco una lira! Dio ha un piano per tutti noi! Ti ho trovato un lavoro onesto, ben pagato, ma da quanto tempo è che non vai a mare? Ma io non ci sono mai andata, non mi hanno mai lasciato andare da nessuna parte. Ma adesso ci sono qua io e sono qui per farti del bene, un po' come la supposta quando una va a freve. Piacere, sogno, spegalino! No, impare, tu sei surato. Mi servisse una cortesia, una mano d'aiuto da amico, ecco. Ma allora che siamo amici? Spegalino! Cara! Tu devi fare solo quello che ti dico, senza fare mai domande. E se fate un buon lavoro e consegnate il carico... Fermo, in nome della legge! Tu sarai un mio indipendente! Ma che è da fare? Basta, maresciano, dobbiamo irrompere. Tu, avrai che irrompe! Sì!